Parliamo di politica, di politica Città di Castello, ci avviciniamo a quella che è in ordine temporare la conclusione della Consigliatura di vari comuni del nostro territorio, questa sera parliamo di Città di Castello e lo facciamo con il Vice Sindaco Luca Secondi. Secondi, sbaglio se dico che questi quattro mesi in più potevano essere gestiti anche da altri, cioè ci arrivate molto stanchi alla fine di questi cinque anni? Diciamo che il periodo ultimo della Consigliatura ci ha visto protagoniste della gestione di un'emergenza sicuramente complicata e veramente difficile da dover affrontare, già amministrare e difficile di suo, di per sé. Farlo durante l'emergenza sicuramente rende estremamente più complicato. Purtroppo questi mesi che noi attualmente ancora affrontiamo, li affrontiamo su un periodo, come vede bene, ancora di emergenza, dove purtroppo ancora la campagna vaccinale non ha prodotto i suoi frutti e quindi continuiamo a dover gestire da una parte l'ordinario della pubblica amministrazione, da una parte quello della prospettiva ovviamente che deve essere sempre messa in campo, ma dall'altra con la pesantezza di dover gestire anche la fase dell'emergenza. E allora le faccio una domanda, non voglio sapere se si candiderà o meno, se farà parte della contesa o meno, ma lei nasce civico, area di centro, cattolico e moderato, si fa tanto parlare di centro a città di Castello come in altri comuni perché potrebbe uso il condizionare essere il centro, in un eventuale secondo turno, essere determinante con i propri voti per eleggere il prossimo sindaco e allora io mi faccio una domanda, che caratteristiche dovrà avere il centro per essere di forte appeal per gli elettori e soprattutto secondi per avere un qual certo peso specifico, secondo lei? Nel definire, nell'inquadrarmi politicamente, quindi giustamente ricordate i miei trascorsi che nasco con la formazione civica del centro democratico, poi ciò che ho finito nel partito democratico, ha colto due temi importanti che è quella del civismo e dell'area moderata. L'area moderata la ritengo fondamentale perché ha la capacità di porsi su una posizione di sintesi ma anche di comprensione di chi la pensa diversamente da te e su un momento complicato come adesso riuscire a essere una figura e diciamo porsi nella situazione e nei panni di chi può provare a mediare anche esigenze un pochino più distanti, penso che risulti estremamente importante. Il civismo lo leggo soprattutto nella capacità di interfacciarsi non ideologicamente con la propria comunità e penso che un elemento sostanziale è quello legato al saper dialogare con quello che è il terzo settore. Molto spesso le esigenze dei cittadini vengono soddisfatti anche attraverso il sistema dell'associazionismo, quindi quell'energia viva che già esiste nella comunità in qualche modo deve sapersi farsi anche istituzionale e questo attraverso un'azione civica, un impegno civico, questo può essere portato avanti. Quindi penso che queste siano le caratteristiche fondamentali che il mondo moderato e civico deve mettere in campo. Ovviamente quello che riguarda me lo vedo collocato all'interno di una collettazione di centro-sinestra perché ritengo fondamentale per appartenenza politica, per convenzione politica, il tema della giustizia sociale, un tema fondamentale da dover perseguire, che era importante prima della pandemia e sicuramente sarà molto più importante anche dopo la pandemia, dove il tema della giustizia sociale penso che sia di rimedio. Ringrazio il Vice Sindaco di Città di Crastello e Assessore dei lavori pubblici Luca Secondi, le auguro un buon lavoro e a risentirci a presto.